La domenica della quarta vittoria consecutiva in casa ci corre l'obbligo di salutare un amico, un amico che ha dato tanto ai colori bianco-rossi, il dottor Vittorio Brandolini vedono a mancare proprio domenica scorsa. Con lui la squadra ha conosciuto sei campionati in Serie D, grande soddisfazione, ma soprattutto Isola Liri ha perso un grande personaggio e un grande uomo. Una vittoria sofferta quella di oggi dell'Isola Liri, pronti e via, al terzo minuto conclusione di Perulli che trovava lo spazio sugli sviluppi di un calcio d'angolo di battere sul palo alla sinistra della Pietra che però si faceva trovare pronto alla respinta. Un minuto dopo Giglio per Caligiuri che calciava di prima intenzione non trovando la porta. Al quinto corridoio invitante per Tagliairoli che a tu per tu si faceva anticipare da della Pietra, in questa circostanza i giocatori di Isola Liri chiedevano un fuorigioco. E si arrivava all'azione del gol, un calcio di punizione dalla sinistra, palla scodellata al centro da Caligiuri, colpo di testa imperioso alla destra di Di Loreti da parte del giovane Michele Cirelli. Palla imparabile per l'1-0, il gol che poi deciderà l'incontro. Tre minuti dopo però Chiesa scavalcava della Pietra con un millimetrico lob sulla linea di porta però ci pensava Raffaele Pozziello ad evitare il gol del pari. Al ventottesimo l'Upa che chiedeva un calcio di rigore sull'ex Davide Raffaello atterrato in aria. Al quarantacinquesimo Perrelli dalla sinistra, attraversone che attraversava l'intero specchio della porta Tagliaroli non riusciva nel tapin vincente. Finiva qui il primo tempo nella ripresa stesso monologo con la Lupa a cercare il pareggio al quinto. Sibilia da buona posizione però calciava alto sulla traversa. E poi qualche minuto dopo al decimo l'Isola Liri trovava l'opportunità di poter chiudere la contesa. Il numero Trecelli atterrava Giglio, cartellino giallo per lui. Giglio dal dischetto però il pallone si stampava sul palo nonostante il portiere fosse andato dalla parte opposta del tiro di battuta. Al diciassettesimo Bravo della Pietra a smanacciare alla sua destra un lob su punizione dell'onipresente numero 8 Perrulli. E poi si andava negli ultimi giri di lancetta della partita con Sibilia che al quarantatreesimo e poi a tempo scaduto al quarantottesimo non inquadrava lo specchio della porta quando ormai il pareggio sembrava cosa fatta. Faceva festa all'Isola Liri in una giornata che ha ricordato con il lutto al braccio la morte dell'ex patron dell'Isola Liri Vittorio Brandolini.